Parlateci del progetto Giù le mani! Vista la situazione d'emergenza che stiamo affrontando, mi sono domandato spesso come potessi essere d'aiuto pur restando a casa. Così ho pensato di scrivere un libro e successivamente ho contattato due persone a me molto care, due persone che stimo. Danilo Baldini è un grafico creativo e ha curato la parte della copertina. Andrea Goroni invece è un illustratore. Approfondiamo! Cos'è Giù le mani? In questa quarantena dove siamo costretti a mantenere le distanze, le mani sono diventate una componente essenziale. Così ho pensato di scrivere i racconti, alcuni ironici, altri un po' meno, narrati proprio dal punto di vista delle mani. Saverio mi ha chiesto di inserire delle illustrazioni che accompagnassero le sue storie. Ho pensato a qualcosa di molto semplice e allo stesso tempo cercasse di dare un messaggio di speranza. Ora la cosa più importante, la finalità. Tutti i proventi del libro andranno devoluti alla Fondazione Ospedale Riuniti di Torrette per rafforzare la terapia intensiva o per tutte quelle necessità che la Fondazione di volta in volta riterrà prioritarie. Speriamo che questo libro diventi ancora più virale del virus stesso, così che insieme riusciremo a raccogliere una cifra che comunque riesca a fare la differenza. Dove troviamo il libro? È semplicissimo. Basta andare su Amazon, digitare il nome del libro, giù le mani, e potrete acquistarlo direttamente da lì. Se qualcuno volesse aiutarci o collaborare con noi, puoi scriverci all'email che vede in sovraimpressione. Qualcos'altro da dire? Che nonostante noi siamo un popolo imperfetto, nella nostra imperfezione siamo capaci di grandi cose, di cose che nessun altro popolo al mondo è in grado di fare. Noi ce la faremo. Noi ce la faremo.